salve a tutti buongiorno a tutti come vedete dietro di me c'è l'albero di natale lo vedete aspettate aspetta eccolo lì vedete lo sto indicando l'albero di natale oggi cari ragazzi è il compleanno della mia nipotina alice abbiamo adobbato tutta la casa e vi faccio vedere anche lo studio allora questo è lo studio dove mio padre lavora vedete tutte le cose di natale le ghirlande abbiamo messo e poi questo è un presepe scusate questo è un presepe che sta facendo mio padre vedete eccolo qua il presepe che sta facendo mio padre avete visto bello poi poi vi faccio vedere anche questi babbo natale se la regia mi permette eccoli qua però io non mi vedo allora qua ci sono i babbo natale di zio almos li vedete ecco poi cosa abbiamo la cucina la cucina tutta tutta decorata con le cose di natale vedete le ghirlande rosse poi ci abbiamo come come piatto preferito oggi ci abbiamo guardate guardate il coniglio guardatelo bello eh fammelo mettere bene sennò mia madre mi ammazza poi 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 cosa abbiamo l'interessante questa è la mia camera dove faccio i video vedete quello sono io con goldrake l'humo tigre e compagnia cantando o ragazzi ci stiamo avvicinando alla vigilia di natale questa è la playstation la playstation 4 televisore subwoofer e poi cosa ce l'abbiamo la camera da letto non l'avete mai vista vero ecco questa è la camera da letto dei miei genitori quel croce fisso che ha preso la parete l'ha fatto mio padre quel croce fisso vedete bello eh poi cosa abbiamo sempre qui la camera da letto guardate che bella a quella è una foto dove ci sono io piccolino quella tra foto che c'è in alto sono con mia madre io ok stiamo camminando per tutta la casa e qua abbiamo il grande meme l'imparigiabile meme zanda ciao meme e meme ciao meme salita al pubblico meme che siamo in diretta visto meme 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 e poi questa è una specie di stufa che dovrebbe riscaldare la camera di zio amos questo qua il mio video proiettore questo questa è qua anche qua ci sono croce fissi qua ci sono tutti questo in croce fisso san francesco da sisi la tartaruga ninja e questa questa è la foto dove ci sono io con mia sorella sabrina se la regia permette ne inquadra aspetta aspettate mettiamo acqua ecco aspetta aspetta ecco vedete zi amos con la sorella ecco forse se facciamo così avete visto che bello tutto elegante e poi mi ha fatto vedere tutto non mi sa di no i bagni ve li ha fatti vedere ecco i bagni questo è un bagno ho rifatto di nuovo eh comunque ragazzi è una fegata questo è un video inedito che non ho mai fatto mi sto facendo vedere la mia casa da volti poi adesso vi faccio vedere cosa stanno facendo fuori i lavori stanno facendo vi ricordate che qua tanti anni fa c'erano gli alberi qui qui c'erano gli alberi adesso stanno facendo tutti i parcheggi questa è una specie di cosa dove si dovrebbero mettere le piantine capito poi andiamo avanti qui vabbè qui stanno facendo i pozzetti qua vedete qua hanno messo i lampioni e stanno facendo un sacco di cose qua eh poveri giri qui c'è meme, mimi, mio mimmi salito al pubblico mimi, mimi, mio mimmi mio mimmi mio mimmi e questo è niente ieri guarda che bel sole ieri non siamo potuti andare in onda perchè mi stavo guardando in afficcia capito? tutto un casino ah c'è Paolo che sta lavorando e niente adesso entriamo dentro come dio comanda anche se qui al sole si sta bene c'è millissimo sole c'è un sole che spacca le pietre ok? ok questo è tutto e niente casomai ci vediamo poc'anzi e aspetta che vi faccio salutare un amico che mi sono dimenticato di farvelo vedere buon Natale saluta il pubblico di Youtube saluta ma vedete è seduto qui perchè è stanco ho 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 ciao bambini ci vediamo il 24 dicembre fate i bravi ciao adesso torna a dormire ciao ciao bene questo è tutto ci vediamo aspettate mamma mia ci vediamo poc'anzi con le canzoni non oggi ma ci vediamo sabato alla festa della mia nipotina di Alice e Zanda ok? bene questo è tutto vi faccio salutare anche loro Goldrake Mazinga Z il grande Mazinga gigloba d'acciaio Goldrake le tartarunghe ninja Hulk l'uomo ragno Capita Unlork e un altro Goldrake va bene? ci vediamo poc'anzi ciao ciao ciao